Volevo fare soltanto due commenti sulle cose che sono state dette, sono un po' sparsi, non posso usare la cosa. La quantità di dati che noi produciamo, io vi ho detto nel 2016 abbiamo prodotti come tutta la storia dell'umanità fino al 2015, ma non vi ho detto quanti ne abbiamo prodotti nel 2016. Ve lo dico come lo dico ai miei studenti, il numero di dati che abbiamo prodotto solo con i sistemi di comunicazione equivale al fatto che abbiamo scritto, prendete un bel libro pesante, Guerra e Pace, 1500 pagine, l'abbiamo scritto 340 miliardi di volte in un anno. Ormai i dati sono il nostro nuovo linguaggio di comunicazione, non si può evitare di passare attraverso quello. Il messaggio che io volevo dare però era che la cosa che dobbiamo recuperare è la fiducia nella nostra testa, il nostro cervello ha una potenza inimmaginabile, inimmaginabile. Quindi la vera cosa da fare è recuperare quello e recuperarlo sulla creatività anche artistica. È vero, il paragone con il rinascimento è naturale. Certo, viviamo in un mondo, se voi andate su Amazon e scrivete che volete comprare, questo l'ha fatto un mio amico americano, me l'ha telefonato l'altro giorno, mi ha sconvolto. Lui è andato su Amazon e ha detto voglio comprare 200 chili di fertilizzante. Voi sapete che Amazon quando fate un acquisto sotto vi dice quelli che hanno comprato queste cose hanno comprato anche queste altre. Per esempio quei libri ci azzeccano, a me succede sempre che i libri ho già comprati e quando me lo dice Amazon li compro. Ma se voi volete comprare 200 chili di fertilizzante sotto, fra le cose che vi propone, dice che quelli che hanno comprato quantità così di fertilizzante spesso hanno anche comprato i detonatori di questa marca e vi offre dei detonatori. Allora, insomma, è una società che bisogna immaginare e tenere sotto controllo. Certamente il controllo è una brutta parola, è una parola negativa nella democrazia e quindi è questa la riflessione che dobbiamo fare. Ultimissima osservazione. Fra le cose che noi stiamo facendo, noi anche personalmente, ma intendo dire, chi si occupa di queste cose sta facendo. E ci sono progetti che sono mirati a aumentare la nostra aspettazione di vita dagli 85 anni di oggi a 100. Non fatevi ingannare da chi vi dice 120. Le cellule cerebrali non possono, qualunque cosa noi facciamo, non possono vivere più di 126 anni. Quindi se qualcuno aveva delle speranze... No, no, no. Non era per lei. Allora, diciamo, noi stiamo tentando dei percorsi che vanno dal genoma fino al profilo sanitario di una persona con finalità che pensiamo siano positive. Certamente ci sono cose. Se voi andate, come noi abbiamo fatto, non abbiamo mai ne pubblicato nulla, le elezioni di Trump, come è stato detto da qualcuno prima, e il nostro referendum sono stati vinti coi bot. I bot, voi non sono i buoni tesoro ordinari, come si usava una volta, sono dei programmi software per i quali, se io, se la signora, spero, scrive Rasetti, è una brava persona, perché l'ho visto che parcheggiava, pagava il parcheggio in città. Automaticamente il bot fa partire un numero, che può essere anche alto, di messaggi che sono sostanzialmente tutti quasi uguali, differiscono un po' per la semantica, un po' per la punteggiatura, che dicono su Rasetti tutto il male possibile. Non importa se sia vero o falso, magari dicono qualche volta passa col rosso, è vero, ma dicono picchi alla moglie, non è vero. Nel caso del referendum italiano, noi abbiamo inseguito un percorso inquietante che si fa, perché uno risale all'indietro sugli indirizzi IP della catena di messaggi e si arriva all'origine. E l'origine non è un uomo, è una macchina. Nel caso del referendum c'è successo di inseguire un singolo messaggio e vedere che aveva prodotto 170.000 bot. Vi potrei anche dire chi l'aveva generato, ma questo non ve lo dico. La stessa cosa per le elezioni del presidente Trump. È stata più che non l'uso della rete, che ormai è naturale, è il nostro modo di comunicare, l'uso, come dire, criminale della rete. I bot sono cose criminali. Noi non abbiamo una legislazione che lo proibisca. Mi piacerebbe molto che i politici si ponessero a questo tipo di problemi. In fondo li tocca anche sulla loro pelle. Non so se è giusto concederglielo, ma insomma ci proviamo. No, una domanda per il primo intervento di Michele Mezza, molto sintetica. Come mai l'Europa non si dota di strumenti autonomi rispetto a dei social come Facebook e rispetto a motori di ricerca come Google? Strumenti attraverso i quali passa l'informazione e quindi anche la gestione democratica e quindi anche la questione elettorale. Cioè c'è una miopia da parte dell'Europa. Siamo un continente di 400 milioni di abitanti, culturalmente avanzato, però ci si affida a strumenti cruciali che sono non solo privati, ma anche di un'altra nazione. Grazie. Potrei rispondere nella maniera più pragmatica. L'ufficio lobby a Bruxelles di Google è quattro volte quello che erano le sette sorelle del petrolio assieme. Quattro volte. Google spende per quell'ufficio qualcosa come un miliardo e duecento milioni di euro. Per cui il livello di pressione, ieri Google è arrivata alla capitalizzazione di settecento miliardi di dollari. Seconda, la prima, Apple, ottocento quindici. Allora, c'è questa potenza. Il punto di cui la discussione oggi ha svicolato, perché io ho detto al mio maestro Derek Decker-Cove, che per la prima volta l'ho detto senza arrossire, non sono d'accordo, che i big data non sono la guida degli algoritmi, sono la conseguenza degli algoritmi. E il punto centrale riguarda la questione del valore prescrittivo. Se qui continuiamo a parlare di tecnologia, Piero, la tecnologia, io insisto, non esiste come categoria separata. Così come non esisteva l'automobile come categoria separata. Allora, la questione di Google che tu poni, tra l'altro, ha un altro risvolto. Perché i dati ci dicono che chiunque è ammalato e usa la rete per curarsi, non usa Google. Perché? Perché un malato di cancro non cerca assistenza tramite Google? Ma per un motivo semplice. Google spiderizza il 12% della rete. Cioè, tutto l'ambaradan, ciccico, co, che si mette in moto quando facciamo la query, riguarda il 12% della rete. Il tema che io pongo è semplicemente questo. Fino a quando la potenza di calcolo che è in grado di determinare predizione, prescrizione ed etica dei comportamenti può rimanere privata ed opaca. Cioè, io non so come funziona. Non lo so. Eppure, oggi, in un paese normale, se io invento un farmaco, come funziona il meccanismo? Il farmaco è la Bayer, è suo, è di proprietà della Bayer. Ma se viene in Italia e lo vuole vendere, che cosa fa la Bayer? Cosa fa la Bayer per vendere un farmaco? Va all'agenzia del farmaco di un paese. E cosa gli dice l'agenzia del farmaco? Nano, sul tavolo, brevetto, principio attivo, processo produttivo, progetto di distribuzione. Poi le faremo sapere. Ma sul tavolo. Allora, come dice non Michele Mezza, noto pazzoide, ma una delle persone più assennate, che è la cancelliera della Germania, Angela Merkel, la trasparenza e la negoziabilità degli algoritmi afferiscono alla sicurezza nazionale. Sono d'accordo. Senza... Una serie di cose perché ci sarebbe... Io ho risposto... Essendo stato, diciamo, preceduto da... No, no, da relatori... Non c'era... Non mi sono voluto soffermare sul fatto, innanzitutto, tranquillizzarvi sul fatto che le macchine non arriveranno ad avere una coscienza. La questione sull'algoritmo e la negoziazione, stiamo assolutamente sullo stesso lato del fronte. Il problema che io mi pongo è la relazione strettissima, credo di poter dire noi, che esiste tra educazione e innovazione, e tra innovazione e inclusione. Se per noi non c'è correlazione tra questi eventi, allora possiamo porre il problema anche dell'algoritmo, lo dico ad altrettanta chiarezza, come un problema di negoziazione tra i vecchi stati in azione e i grandi soggetti private. Io cerco di vedere anche un po' il discorso dell'inclusione, che non può essere un'inclusione per pochi, perché la negoziazione... Qui il problema, sai qual è? Quando prima dicevi grandi sociologi... Io credo che oggi noi siamo in una società iperconnessa e interconnessa, che è ancora una società di massa. Gli effetti degli algoritmi sono effetti che la teoria dell'agenda setting ha documentato nel secolo scorso. Certo, sono di carattere esponenziale, cioè hanno un potere, avranno sempre di più il potere, ma questo lo facevano già i vecchi media con caratteristiche differenti, che non è quella di stabilire che opinione avrà l'opinione pubblica, ma di stabilire su che cosa l'opinione pubblica avrà delle opinioni. Quindi sono poteri importanti, assolutamente. Io sono sul stesso lato, chiamiamo così, del fronte. Però ritengo che oltre al discorso centrale della negoziazione, guardate il ruolo e il peso che hanno la tecnocrazia, oltre a quello che tu volevi dire. Vogliamo anche dire che oggi nei parlamenti dei paesi dell'Unione Europea e non soltanto siedono deputati che rappresentano direttamente gli interessi di queste persone. Cioè non c'è neanche più un discorso di delega, li mettono direttamente in Parlamento a discutere poi delle questioni. Adesso veramente chiudo, però volevo dire una cosa importante. Cioè qui c'è un discorso che va oltre la negoziazione. Cioè se noi non correggiamo, che è importantissimo, se noi non correggiamo il discorso dell'educazione e della formazione, uso una metafora perché è così pochi secondi, teste ben fatte e non teste ben piene, come avrebbe detto Montaigne, noi continueremo a dire che la negoziazione purtroppo sarà, e qui arriva il tema, che la teoria degli elitisti, Mosca, Pareto, Michels, sarebbe andarsela a rileggere. I cambiamenti e i processi di innovazione oggi vengono decisi, discussi e negoziati dalle élite. Se noi non mettiamo mano al discorso educativo, continueranno a essere un problema delle élite. Con tutte le ricadute del caso, proprio perché la comunicazione, poi abbiamo detto, porta fuori dalla cerchia delle élite quei problemi. E allora lì c'è un doppio problema, di comunicazione, di cultura della comunicazione, di condivisione della conoscenza. 30 parole per completare la risposta. Ma non era antiterraneo. G7 di Ischia, non so se l'avete visto, si è concluso il G7, cioè il massimo momento d'incontro dei governi dell'Occidente, in una tavolata, da pari a pari, sette governi da una parte, e i quattro service provider dall'altra, da pari a pari. e hanno discusso di come, dice il documento, assicurare una nuova narrazione contro il terrorismo. Una nuova narrazione. Cioè i postini, perché questi sono i service provider, postini, mi devono dare loro una nuova narrazione. Nessuno ha detto, beh, per quello che diceva Piero, metà sono a libro paga, metà sono stupidi. Vogliamo sottolineare quanto è grave, e veramente mi chiudo, lo so che è una minaccia per chi mi conosce, ma c'ho anche un po' di temperatura, quanto è grave che nel momento in cui si sta provando a definire un sistema di pensiero, perché le implicazioni epistemologiche sono notevolissime, sull'epoca di cambiamento che stiamo vivendo, l'università è fuori. Fateci caso, dai luoghi in cui si discute di innovazione, l'università è fuori. È ancora chiusa. Chiusa. Grazie. 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 Grazie.